Pensa Renato a che cosa significa tutto un sistema in cui i singoli ministeri che si chiamano per nome, cioè i ministeri in Italia hanno le sigle, gli acronimi, l'avevamo detto l'altra volta, non sono realtà che dialogano, noi siamo il MISE, voi siete il MIUR, noi siamo il MAI, voi siete il MIBACT, tutti siamo il MEF, c'è il MIT, è imbarazzante sta cosa, io continuo a pensarla come una cosa drammatica. Pensate sul CED, la revisione della spesa c'è comunque sia che ci sia un commissario sia che ce ne sia un altro, il punto è essere capaci di far passare il messaggio che la revisione della spesa che noi faremo, non soltanto lo dico scherzando Stefano Fassina se non fosse una cosa seria, ma i 16 miliardi che stanno nel programma di revisione della spesa presentato, porterebbero il prossimo anno Fassina a spararmi, perché siamo al 2,3 con i 16 miliardi secondo i calcoli che vengono fatti, non al 3%, al 2,3 e quindi uno può discutere se sia giusto o meno arrivare a quel livello, se questo aiuti sul tendenziale, su tutte le cose che conosciamo e che non voglio riaprire adesso, ma per dire che i numeri non sono un problema oggi, io sostengo e con questo chiudo perché l'ho fatta fin troppo lunga, che la vera questione che noi abbiamo di fronte non è incaponirsi su un virgola a livello di discussione tecnica e teorica, qui c'è una grande questione di priorità politica, o la politica recupera spazio e riprende a fare il suo mestiere, e vale dalla politica estera europea al modo con il quale noi interveniamo sulla gestione dei centri di costo sull'efficientamento energetico oppure nessuno di noi ha un ruolo.